Mentre le nostre Miss si schierano un grazie agli amici del Bar Savo per l'ospitalità e la gentilezza che hanno avuto nei confronti di Miss Italia Un grazie a Augusto, proprietario titolare del Savo che è un gran signore e un grazie a tutto il suo staff Io vorrei un applauso a tutte le ragazze per cortesia perché ancora adesso sono felici e contente Tra qualche momento qualcuno di loro sarà un po' meno, ahimè Però le ragazze devono sempre ricordarsi che non finisce questa sera, che già martedì proprio Il 2 agosto siamo a Ventimiglia con un'altra finale regionale E allora andiamo con la concorrente numero 2, numero 1 per il perdetto finale Voto definitivo per Gaia Di Martino, voto definitivo da 1 a 5 in cifra e in lettere La giuria deve dare voto definitivo da 1 a 5 in cifra e in lettere per la concorrente numero 1 Votate, grazie Grazie Gaia Concorrente numero 2, Laria Baccellini E siamo alla concorrente numero 2 e anche per lei la giuria deve darmi il voto definitivo da 1 a 5 in cifra e in lettere Grazie, Laria Voto definitivo anche per la concorrente numero 3, Jessica Minuzzi Siamo alla concorrente numero 3 e anche per lei la giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifra e in lettere Votate, grazie Grazie Jessica Andiamo avanti con la concorrente numero 4, Sara Canepa Voto definitivo da 1 a 5 in cifra e in lettere per la concorrente numero 4 La giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifra e in lettere per la concorrente numero 4 La giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifra e in lettere per la concorrente numero 5 La giuria deve dare il voto definitivo da 1 a 5 in cifra e in lettere per la concorrente numero 3 e anche per la concorrente numero 6 Giurma di più 6 in cifra e in credibility per la concorrente numero 4, Sara Canepa Voto definitivo da 1 a 5 in cifra e in lettere per la concorrente numero 6,kk' Giorgia neggrassi Ceschini, concorrente numero 7. Grazie Camilla, concorrente numero 8, Eni Furletti, voto definitivo da una 5 in cifra in lettere per la concorrente numero 8. Grazie Camilla, concorrente numero 9, Marzia Gasparetto, voto definitivo da una concorrente numero 9. Grazie Camilla, e Marzia andiamo avanti con la concorrente numero 10, Alessandra Boglioni. Voto definitivo per la concorrente numero 10, sempre da una 5 in cifra e in lettere. La giuria sta votando la concorrente numero 10. Grazie Alessandra, concorrente numero 11, voto definitivo anche per Chiara Borfiga. Grazie Camilla, concorrente numero 10, voto definitivo anche per Chiara Borfiga. Concorrente numero 12, voto definitivo per la concorrente numero 12, Alessandra Ferrini. La giuria sta votando la concorrente numero 12, voto definitivo anche per la concorrente numero 12, voto definitivo anche per la concorrente numero 12, da 1 a 5 in cifra in lettere. Grazie Federica, proseguiamo con la concorrente numero 14, Alice Andreoli. Voto definitivo anche per la concorrente numero 14, Alice Andreoli. Grazie Alice, concorrente numero 15, Miriam Brofino. Grazie Alice, concorrente numero 16, Giulia Singola. Voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere per la concorrente numero 16, Giulia Singola. Grazie Giulia. E proseguiamo con la concorrente numero 17, Valentina Canevelli. Per lei voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere. Grazie Valentina, andiamo avanti con la concorrente numero 18, Adriana Turecciotti. Voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere per la concorrente numero 18, Adriana Turecciotti. Grazie Adriana, concorrente numero 19, Eleonora Barsotti. Voto definitivo anche per la concorrente numero 19. Grazie Donora, concorrente numero 20, Marzia Cavalli. Voto definitivo per la concorrente numero 20, Marzia Cavalli. 5 in cifra in lettere. Grazie Marzia, e continuiamo con la concorrente numero 21. Voto definitivo anche per Roberta Bobbio, concorrente numero 21. Grazie Roberta. Concorrente numero 22, Giulia Barsotti. Voto definitivo per la concorrente numero 22, Giulia Barsotti. Voto definitivo per la concorrente numero 22, Giulia Barsotti. Naturalmente sembra da 1 a 5 in cifra in lettere. Grazie Giulia Barsotti. E continuiamo con la concorrente numero 23. Voto definitivo anche per Susanna Barsotti. Voto definitivo da 1 a 5 in cifra in lettere. Grazie Susanna Grazie E allora, io vorrei un applauso nel pubblico e alle ragazze del cortesia Adesso Sabrina, se sentimente mi hai raggiunti giù Mi controlli e iscritti dei giurati Intanto io, Alberto, sentimente mi fai la foto di gruppo con tutte le ragazze adesso Ragazze, bene, guarda verso il pubblico Grazie ragazze Cheese, questo è ancora un momento che vi volete sicuramente tutte bene È il momento vero e bello Quindi mi raccomando Anzi, io colgo l'occasione, aspetta Stai, Alberto, sei lì Io perché lei, la signora Veronesi, andare sul palco con tutte le siano Ha fatto una foto insieme alle ragazze Perché col body poi non le vediamo più tutte insieme Quindi, così intanto la signora si prepara per il suo momento Intanto pregherei, buonasera Intanto pregherei la sorella di Trentina Caneretti Quindi, mentalmente, di dare vestitini neri alle sei ragazze dopo sette Che devono fare la moda perle, per cortesia Valentina Grazie Quando vintano dalla 18, 19, 20, 21, 22, 27 Ragazze, vi ringrazio Vi dovete andare a preparare le prime 17 con la maglietta, voi lo sapete Le altre 6 per i momenti di luna Grazie ragazze, ci vediamo dopo Vorrei un applauso alla parte del pubblico per cortesia Grazie Grazie Grazie